Sotto leggi da FIGC, con il patrocinio dell'Unione dei Comuni Atellani e dei Comuni di Fratta Minore e Orta di Atella, il sostegno sportivo dell'Empoli Calcio e quello morale dell'Unice, la quindicesima edizione del torneo di Natale per le categorie esordienti, mini giovanissimi e per la prima volta i giovanissimi! Presentazione ufficiale al pub irlandese The Opera di Orta di Atella il 16 dicembre, cerimonia d'apertura il 18 dicembre a Fratta Minore con l'ormai celebre sfilata delle scuole calcio, dal 22 dicembre al 6 gennaio eliminatorie, play-off e finali, serata di chiusura e premiazioni il 10 gennaio al Teatro Centro Ester di Barra con l'assegnazione del seminatore Campano. L'intera manifestazione sarà seguita da Tele A, Tele A+, canale Sky 868 e dal sito internet www.soccerboy.it, ufficio stampa 081 59 22 190, indirizzo e-mail mario.cacciatorechiocciolatin.it, per ulteriori informazioni 335 53 64 448.